Nel secondo giorno di zona gialla, alla luce dell'aggiornamento odierno, l'Abruzzo registra un rapido peggioramento degli indicatori. Il tasso di occupazione dei posti letto, infatti, nel giro di 24 ore, schizza al 18% per le terapie intensive, più 4% e sale al 26% più 1% per l'area non critica, a fronte di soglie da zona arancione rispettivamente del 20 e del 30. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti è invece a 2.275, la soglia limite è 150. Il dato sui ricoveri in area medica è passato da 216 a 338 unità nel giro di 7 giorni, con un incremento pari al 56%. La variazione sale addirittura al 111% considerando due settimane. La variazione delle terapie intensive nel giro di 7 giorni è invece pari al più 33%. Il dato sui ricoveri in due settimane è passato da 184 a 370 pazienti ospedalizzati, con una differenza del più 102%. E a livello di numeri oggi sono 4.996 nuovi casi di covid accertati nelle ultime ore. Del totale 3.778 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma di tamponi molecolari e test antigenici è pari al 9,8%. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra un mese e 99 anni. Si registra, come detto, un balzo dei ricoveri, che passano dai 339 di ieri ai 370 di oggi, con un brusco incremento delle terapie intensive. Due decessi recenti. I guariti, invece, superano quota 90.000. A livello territoriale i numeri più alti sono ora quelli del Terramano, dove l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti è a 2.407, seguito dal Chietino con 2.350. Poi c'è la provincia di Pescara, con un'incidenza pari a 2.057. Più dell'Aquilano con 1.764. Unico territorio a mostrare ancora un valore inferiore a 2.000. Del totale dei casi accertati in Abruzzo, 817 in più sono registrati in provincia dell'Aquila rispetto a ieri, 1.398 in provincia di Chieti, 1.279 in più rispetto a ieri in provincia di Pescara, 1.280 in più in provincia di Terramo e 80 per persone che risiedono fuori regione.